Il Rimini torna ad accendere la speranza, ottenuto il trend positivo di tre risultati utili consecutivi. La vittoria di sabato scorso contro il Modena ha restituito consapevolezza dei propri mezzi alla squadra ed ora si ritrova al penultimo posto della classifica, più due sul Fano. Il match di sabato contro il Verona sarà fondamentale per continuare a macinare punti e allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione, perché ora Arzegnano e Molese sono distanti rispettivamente due e tre punti e tra sabato e mercoledì, nell'infrasettimanale contro il Fano, i biancorossi potrebbero addirittura superarle. Una squadra molto competitiva, una squadra che ha giocatori di qualità, che ha fatto tanti punti in giro in andata e secondo me meritatamente e quindi è una squadra da prendere ovviamente con le molle. Poi se noi dovessimo stare a ragionare su chi affrontare in una certa maniera, siccome ci sono almeno 17-18 squadre sopra di noi, è poco da far conto. Nessuna anticipazione sulla formazione titolare, solo la certezza di Meli tra i pali e Messina come terzino. Candido e Letizia non saranno ancora delle match per infortunio, mentre per squalifica non ci saranno Finizio e Ambrosini. Ma i punti, noi non dobbiamo far conti di nessun tipo, né delle tre partite, né del Fano, né di niente. Non è che possiamo non far punti a Verona perché dopo c'è il Fano. Non possiamo permettercelo, non può permettercelo nessuno, meno che meno noi. Noi dobbiamo far punti, quindi andiamo a Verona per fare la partita, non per pensare a quella dopo. Grazie.